Ennesimo importante premio per la Melanzana Rossa di Rotonda DOP, per il consorzio che da anni lavora la sua tutela e valorizzazione. L'occasione è stata la terza edizione della rassegna del giornalismo agroalimentare e agroindustriale ProSud, che si è svolta al Museo del Bergamotto di Reggio Calabria. La Melanzana Rossa di Rotonda sicuramente rappresenta un'eccellenza del nostro territorio, che man mano che il nostro consorzio è cresciuto, pari passo, è aumentata la notorietà della Melanzana Rossa. Per cui per noi questo premio rappresenta comunque un alto riconoscimento del lavoro fin qui svolto, con la voglia ancora di continuare a raggiungere dei risultati ancora più eccellenti. Il consorzio principalmente fa un'azione di promozione e sviluppo delle informazioni, far conoscere la Melanzana agli utenti, non solo a livello nazionale ma anche all'estero. Per cui siamo impegnati nella promozione, la partecipazione, invitare le aziende consorziate ad accedere alle fiere che sono presenti sul territorio nazionale e cercare di tutelare sempre di più la contraffazione che pure c'è su questi prodotti.